Ciao a tutti, benvenuti alla prima puntata ufficiale di downwithbassi, downwithbassi.com Bassi e Bosca, Bosca, sei emozionato la prima puntata? Un po' sì, sinceramente sì, tu? No, non particolarmente, però bene così, ci dividiamo un po' i compiti. Cos'è? Questo è un podcast che vi proponiamo, audio e video, mensile, dove proveremo a incontrare dei personaggi che hanno un certo valore per quanto riguarda la scena hip hop, la scena della musica in generale, tutto quello che gli ruota intorno a 360 gradi, producer, artisti, gente dell'industria, rapper, DJ, vedremo, avremo anche modo magari grazie ai vostri suggerimenti di avere altri ospiti a cui non avevamo già pensato. Assolutamente, però questa prima puntata è speciale, vogliamo partire bene con un personaggio che oltre che essere un nostro amico ha un bel valore nella scena hip hop italiana, diciamo che dalla metà degli anni 90 ha segnato parecchi momenti storici importanti. È tuttora molto influente. Assolutamente, ha collaborato praticamente con tutti, con tutta la scena italiana. Diamo il benvenuto a Downwithbassi, è giù con noi quest'oggi, Fritz the Cat! Come abbiamo anticipato con Fritz the Cat, ciao Fritz! Ciao Bax e ciao Bosca, ciao frizzonato! È la prima puntata ufficiale, quindi partiamo... Qualcerto onore, no direi? Beh insomma, per entrambe dai, alla fine noi ci sentiamo un po' a casa perché ci conosciamo da tantissimi anni con Fritz, abbiamo più o meno iniziato, tu sei un po' più giovane, è l'età del Bosca tu? Io sono del 75, ti passo un paio d'anni, sono del 76, 76, vabbè ok, non dico più niente, io sono un po' più vecchio però più o meno arriviamo... Tu hai fatto classe 73? Io ho fatto classe 73, arriviamo più o meno dallo stesso periodo, quello che viene un po' definito la Golden Age, quindi siamo cresciuti negli anni 90 un po' con le stesse prime passioni, le stesse... quindi era bello anche iniziare con Fritz e in questo podcast, perché appunto è una novità, comunque quando incontriamo i nostri ospiti abbiamo deciso di fare un po' una cosa che nelle interviste ufficiali non si fa mai, cioè andare veramente indietro nel tempo, quindi riportiamo il nostro pubblico a delle cose che non ha mai sentito, per esempio Fritz bambino, Fritz dove nasce innanzitutto? Dove sei nato? Io sono nato a Genova, perché mia madre è genovese, mio padre è calabrese, mia madre genovese, si sono conosciuti in Liguria, in vacanze, in ostello, fricchettoni e poi si sono trasferiti da lì a subito a Milano, però mia madre mi ha fatto nascere a Genova perché è di Genova e quindi era ragazzina, aveva 23-24 anni, aveva piacere di farmi nascere nella sua città, insomma. Ah quindi ti è rimasto dentro un po' un indole genovese? Genovese, calabrese, milanese, pericolosissimo, un mix letale. Aspetta, un bel mix comunque. Weird. Quindi però sei cresciuto a Milano, in che zona? Sono cresciuto a Milano, sì, ho sempre, sono vissuto, ahimè, a Milano, perché Milano è bella, però averci passato tutti 39, insomma si poteva passare del tempo anche da qualche altra parte. Comunque io sono nato, cresciuto, ho sempre vissuto in zona Sempione, zona fiera a Milano. Ok. Tu, la tua famiglia che è sempre stata unita? Cioè tu avete sempre vissuto? Sì, i miei fortunatamente ancora, beh, mi hanno concepito pochissimo dopo essersi conosciuti e stanno insieme da allora. Tuo fratello è più giovane, è un bel po' più giovane di te, però. Sì, è un fratello più giovane di otto anni, che fa anche lui musica. Esatto, che dopo magari ne parliamo, comunque Rocco, che parte anche del collettivo Reset, insomma lo conosciamo da tanti anni, ho anche i primi demo di tuo fratello, tra l'altro. Sì, i più che demo erano mixtape, come si diceva all'epoca mixtape. I primi mixtape, perché appunto tuo fratello è un DJ e producer, quindi... Quindi famiglia di artisti... No, 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 solo io e mio fratello facciamo musica, però tipo mio padre, mia madre, nessuno in famiglia ha mai fatto alcunché di artistico, né disegnare, né suonare, proprio nulla. È stato uno sciopun che mi è venuto... Ma quindi le prime manifestazioni artistiche di Fritz, cosa sono? Musicali? Sono... Ma come era spesso all'epoca, no, anche per te forse, in 91 così, tutto un po' insieme, due graffiti, due tag... No, aspetta, no, ma io parlo dei primi anni, quando eri proprio un bambino, c'erano delle manifestazioni, c'è quello che canta, che recita le barzellette in famiglia... Quello bravo a disegnare... No, mi ascoltavo il 45 giri, che era l'unico disco che mia madre mi aveva comprato, avevo il mangiadischi così, il 45 giri di Moroder, la storia infinita, sì, perché avevamo visto la storia infinita... La scuola, tutti andavamo a vedere la scuola, terribile... No, no, ma avevamo portato i miei... Ah, ok... Terribile, odio, odio quel film... Davvero? Sì, sì, terribile, beh, mi ha sempre messo angoscia, non lo so, con questo dragone finto che volava... Richiuso in soffitta, se va, no, terribile lì, quello richiuso in soffitta lì... E comunque no, sì, no, no, non ho mai avuto in famiglia particolari... Anzi, nessun input artistico, per così dire, insomma... Ok, quindi il primo scatto con la musica, la prima passione, qual è stata, a parte Moroder e la storia infinita? Beh, beh, no, forse sì, ecco, al primo o secondo anno delle superiori, ogni tanto a caso, completamente affittavamo una saletta con gli amici e quello che prendeva lezioni di chitarra, quello di basso, quello di batteria, e dicevo, vengo anch'io, raga, canto! Ah, tu cantavi? Ma boh, cantavo, pur rubavo le bacchette a quello con la batteria e ci provavo, ma non sono mai riuscito a fare nessuna di queste cose... Allora, per il nostro pubblico, che non è, magari, ci sono anche tanti ragazzi giovani che ci seguono, ricordiamo un po' le origini musicali di Fritz, perché io quando ho sentito parlare di te, adesso non mi ricordo se ti ho sentito forse una volta ospite a Radio DJ, che presentavi, perché, diciamolo, Fritz the Cat, che è un super producer, ha anche iniziato come rapper ufficialmente. Sì, per forza, quando hai 15 anni e 16 anni vuoi fare anche quello, cioè vuoi fare quello, quello, no? Poi non sai com'è, segui la tua cosa, per cui sei più portato. Però a 16 anni avevo questo gruppo col mio miglior amico, che si chiamava Rasoli, che adesso fa Vice Magazine, ci chiamavamo TNT, e facevamo, come era all'epoca, più o meno di regola, il rap politico, mezzo rivoluzionario, no? Ci chiamavamo TNT. Uscì un singolo, giusto? Si, si chiamavano Mates e il sexo loco, così adesso i raccoglitori di vinili, che aveva il contenuto sociale tipo anti-hites, aveva 16 anni, tipo, io non ero un'autoproduzione mai. No, avevamo convinto, non so che pazzoidi a stamparcelo. Ah, ok. Si. Tu ce l'hai, Bosca, no? No, io quello penso dopo. Quello già fatto, che avevo 18 anni, col nome L'Anima Nera. Esatto, L'Anima Nera. Si, lì era anche periodo che ancora rappavo, diciamo, però ecco. L'Anima Nave va, giusto? Esatto. 16 anni, 16 anni era proprio politica la cosa, no? Era il periodo un po' politico, sì. A te anche, però, c'entra politica. E certo, eravamo tutti un po' politici. Abbiamo fatto una puntata a zero, una puntata pilota con Rido, che ovviamente ci raccontava anche le origini loro, e in quegli anni lì, insomma, 91-92, quando iniziavamo a fare rap in italiano, era proprio quella cosa lì, dei centri sociali, della protesta, quindi fanculo allo Stato. Sai che non mi ricordo, se ne ho parlato in quella del Corrido, che io invece avevo la posse ed eravamo in due. No? La posse di due cristiani. Sì, ci chiamavamo azione verbale posse. Vabbè, infatti anche noi eravamo in due, avevamo TNT posse, ci chiamavamo, ed era, no, appunto la roba bella era che era un pezzo sull'AIDS, tipo che in realtà eravamo entrambi vergini, io l'avevo appena ciulato, proprio appena, appena, appena. E allora era questo pezzo in cui spiegavamo che bisognava usare il preservativo. Comunque è una buona causa, dai, nel senso. Ma sì, è una buona causa, è giusto che a 16 anni parli di quello che ti viene. E invece, aspetta, l'Anima Nera come nasce come progetto? L'Anima Nera è Fritz The Cat che era... Ero io che aveva ancora ambizioni di rapper. Subit di Fritz The Cat? Cioè, producer AMC? Non mi ricordo, sì, no, c'era il periodo che avevo entrambi i nomi, e perché esatto, quello era più il gruppo, avevo coinvolto dei strumentisti dalla scuola civica di jazz, uno che suonava il Fender Rhodes, poi a tratti un sassofonista, una cantante, così, e venivano a casa mia, mi ricordo ancora la pazzia, questo si portava il Fender Rhodes a casa, che è un bestione così, con le quattro gambe smontate, un vibrafonista, addirittura una volta, poveretto, avevo fatto venire il vibrafonista a casa mia, il vibrafonista è grande come una stanza intera, e avevo questa ambizione qua di produrre un po' come era all'epoca, con le venature, le venature jazz, no? Era uscito quell'anno lì, il 93, Jazz Mataz. Però era molto avanti il fatto di usare dei musicisti in quel periodo, non erano tanti i gruppi, anche in America, c'era Jazz Mataz, forse di Guru, come esempio, però... Sì, esatto, c'era Jazz Mataz di Guru, io quello, i Roots, Do You One More, che anche quelle del 93-94. E allora io volevo fare questa cosa qua, di unire i campioni al suonare, però al suonaggio, come dice un mio amico, il suonaggio com'è, raga? Volevo unire i campioni al suonaggio, però poco dopo ho abbandonato quella strada, beh, a parte che ho abbandonato, per fortuna di Dio, la cosa del rappare, però no, proprio anche sulla roba del produrre, poi dopo mi sono incafonito, anche mi sa beccando gentaglia come te, che vedevano la roba del suonare un po' come no, qua bisogna campionare, però, no, 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 però è vero, però cazzo, con la palestra lì di un po' di anni soltanto, soltanto, soltanto a campionare, senza aggiungere nessuna parte suonata, a pensarci, cioè in pratichito, per Dio, no? Cazzo, adesso non un campionato a tagliare, perché siamo stati tutto il giorno a rivoltare questi campioni spesso anche già usati, a dire, no, questo come lo uso, come non lo uso, per cui, come si può dire, cioè, sì, sì, da una parte, uno dice, potevo continuare a suonicchiarci qualcosa sopra, a farci suonicchiare, a prendere delle parti, era una presa di posizione produrre coi campioni, era una presa di posizione, una scuola, partengo a quella cosa, faccio solo le robe coi campioni, coi vinili, anche perché, vabbè, quello c'era, c'erano i vinili campionatori, non è che avevano molte altre opportunità, ma quindi, e la nave va, cos'è, hai fatto un singolo, un EP, un singolo, sì, che uscì con un'etichetta, sempre un'etichetta di pazzo, perché questi mettevano i soldi, tu eri già un imbazzone ai tempi, io ce l'ho in una, avevi contatti, sono segnato, sì, mi sono sempre mosso, che era un imbazzone già ai tempi, volevo chiedere, no, no, che dopo te la chiedo questa cosa, che mi è sempre interessata, tu sei un imbazzone, sei un imbazzone, caspita, ma no, sei un bravo PR, mettiamolo in modo un po' più corretto. No, invece, sinceramente, io non sono un bravo PR, come si intende pubbliche relazioni alla milanese, anche se di default, non mi ricordo con chi ne parlavo l'altro giorno, qua a Milano, qualsiasi lavoro tu faccia, che sia un barista, che sia un produttore repuso, che sia un commesso del supermercato, abbiamo tutti una dose di pubbliche relazioni, skills, no, di default, qualunque cosa tu faccia, però io non sono un buon PR, perché ho difficoltà con gli esseri umani, sono un po' sociopatico, in una certa misura, come molti, però sono un buon, o perlomeno ho una visione di come incanalare le mie cose, no, allora ogni tanto mi metto l'impegno e, come posso dire, cerco di capire come posso relazionarmi con la gente al meglio, però un buon PR è un'altra cosa, mi piacerebbe essere un buon PR, però sono un buon organizzatore di cose, non quadrato come te, e ogni tanto ti invidio sta quadrato, però... Sei un buon manager di te stesso. Buono per alcune cose, per altre è un disastro, perché io mi rendo conto poi col seno del poi adesso, che mi sono giocato tante occasioni, perché ho parlato male con la gente, ho spiegato male le mie cose, non sono riuscito a trasmettere l'energia come bisognava, no? Però, per alcune cose, invece alcune cose che devo capire ancora, adesso ci penso poi a fine puntata, però per alcune cose riesco a... soprattutto c'è la tenacia, voglio arrivare a una roba, non dormo la notte, se non voglio... Comunque, se avete delle copie di TNT, mandate, io sono disposto anche a comprarlo, se qualcuno lo sai. Io ne ho una, non posso lasciare, se no te la regalare. Comunque, Fritz, volevo dire questa cosa, a me piace sempre ricordare il momento dell'incontro, comunque quando sono venuto a sapere che tu esistevi, e proprio per questa cosa che tu comunque eri un po' fuori dal giro e tutto, poi avevi fatto questo pezzo che forse avevo sentito in radio e tutto, mi ricordo che si parlava di Fritz come uno un po' cioè, ah minchia, Fritz the Cat è quello che ha fatto con la roba lì un po' commerciale, sono mi ricordo, Bosca mi ricordava che c'era tra l'altro un campione di Groover Washington di Just Two of Us, non dichiarato chiaramente. Ma no, ma che dichiarata, tanto è caduto in prescrizione. Io non mi ricordo, però mi ricordo che era considerato una roba un po' commerciale, e quindi ne parlavo, ne parlavo, io era il periodo in cui iniziai a frequentare gli OTR, ESA e compagnia, e quindi si parlava di Fritz come di uno un po', Fritz the Cat, ah ma quello lì, quello che ha fatto con il pezzo lì l'anima nera, no? Senza conoscerti. Poi a un certo punto il next step di questa cosa è stata che qualcuno mi ha detto, forse proprio ESA mi ha detto, ah ma tra l'altro viene in sede, che era il loro studio di Varese, Fritz a fare delle cose, Fritz comunque fa dei beat così, e lì ti ho rivalutato senza conoscerti ancora. Eri venuto a casa mia te Roccia, ti ricordi? No. Eravate venuti a casa mia, io t'ho conosciuto che eravate venuti a casa mia, tu ESA e Maria. Ok. E a qualcuno gli puzzavano i piedi, ancora devo capire, ti giuro. Non a me, proprio perché. No, però questa te la rivelo dopo vent'anni, io mi ricordo che avevate tutte queste scarpacce da ginnastica enormi, io ce l'avevo più sfilatino, più piccolino, e mi ricordo che a un certo punto mi siedo sul letto, porco zio, c'eravate tutti e tre, e diceva, chi cazzo è che gli sono i piedi, chissà chi era, vabbè io ti chiamo subito fuori, ti chiami subito fuori, e quindi vabbè, lasciamo, adesso c'è chiaramente il diritto di replica, no non volevo dare del pezzuto a nessuno, adesso io faccio il resto della puntata, anche a me mi puzzano i piedi ogni tanto raga, cioè non è che è una colpa, togliamoci le scarpe e facciamo la puntata senza scarpe, no comunque chiaramente qua stiamo parlando quindi possono venire fuori delle cose, chiaramente, c'è il diritto di replica, se Maria o Esa sentono di poter dire qualcosa, con tutto l'affetto raga, sono ricordi, eravamo quasi adolescenti, gli adolescenti puzzano, comunque probabilmente diciamo noi ci siamo conosciuti quando ti avevano già messo in buona luce, nel senso dicendo Fritz fa dei beat, e da lì poi ho iniziato a rivalutarti e da lì poi dopo insomma tu hai iniziato a lavorare con loro, quindi avevamo iniziato a beccarci un po' di volte, poi c'è stata subito scattata la cosa tipo tu fai beat, io faccio i beat. eravamo andati a lavorare una volta assieme a volantinare, e lì ti avevo detto Bassi ma me lo fai un pezzo per il mio disco, eravamo andati insieme a volantinare a S.M.L.A. mi ricordo che c'era questa cosa che forse tu lavoravi nel garden center di mio padre, nel garden center di tuo padre e ci offristi un lavoro, forse a me e a qualcuno, no io e te andavo una volta a volantinare, sì tipo per 50 mila lire e 10 ore di volantinare, no non è vero, era schiavismo, 100 mila lire e una giornata di volantinare, ma intanto ci divertivamo, sparavamo incazzate e andavamo in giro, comunque vabbè queste sono un po' le origini di Fritz, dopo continueremo a parlare di cose super interessanti ma adesso è arrivato il momento di questa rubrica che abbiamo già svelato nella puntata pilota che si chiama Straight from the Crate. Straight from the Crate dove io da qua dietro, ovviamente che ho preparato prima, pesco tre vinili che secondo noi, secondo me Bosco, possono essere significativi per il nostro ospite e te li prendo qua e non so se farteli vedere, non so neanche in che ordine farteli vedere, hai visto uno solo, solo quello sopra ho visto. Ok allora, uno lo facciamo vedere, là è questo qua, abbiamo voluto scegliere un producer che chiaramente è significativo per te e abbiamo scelto Pit Rock. Questo era il primo album su da solo solisti. Questo è il primo album solista di Pit Rock, Soul Survivor. Sì bello, bello un bel disco. Cioè abbiamo beccato? Sì, sì sì, forse questo era un periodo... Io questo disco ce l'ho, l'ho sentito tanto, mi ricordo bene il pezzo True Master perché c'è un campione che io ho riutilizzato in Fritz, degli Impressions, no? Quello col Plauto. Infatti quando ne abbiamo parlato tu hai detto c'è True Master che lui ha riutilizzato. Ah ok, esatto. Poi c'è... bello c'era questo col vibrafono, plum 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 plum, bello. Era un bel disco, cioè avete azzeccato che volevo dire. Vabbè ok, Pit Rock comunque possiamo dire che è uno dei tuoi produttori di riferimento? Un'influenza o... Sì sicuramente, anche se... Anche se sentivo... Negli anni 90? No, non negli anni 90, anche adesso Roccia. Cioè non adesso, le robe che ha fatto all'epoca, me le sento adesso, le capisco di più come posso dire. Perché questo è del Pit Rock e del 75 come me, credo, tra l'altro. No, mi sa che è più vecchio Pit Rock. Un 73-74. Sai che non molto di più, eh, mi sa. No, 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 guarda che ho 75-73. Sai che era abbastanza giovincello Pit Rock. E comunque quello c'ha il padre che è nato già con i dischi in casa. Beh, ma noi siamo nati con Baglioni o... Io con un cazzo, io sono nato in casa senza voi. No, vabbè, io sono stato fortunato, però nel senso tutti noi comunque sono nati con una discografia italiana. Cioè è difficile che qualcuno sia nato col funk o il reggae o il sol. No, no, per questo dico, questo ci credo a vent'anni faceva delle robe che io posso capire vent'anni dopo. Cioè posso apprezzare di più perché ho sentito quei vent'anni che mi mancavano. E quello c'è nato. No, all'epoca mi piaceva, ma adesso lo sento e capisco di più, no? Lo capisco di più. Invece quest'altro disco che ti sottopongo è il tuo primo... Questo è il primo, prima ancora del disco, giusto? Sì, questo è uscito nel 96, mi sembra. Ok, questo cos'è? Torno sulla scena EP. Perché hai scelto di lavorare con Mauri B? Ma non è che ho scelto, io praticamente ci presentò Esa e Mauri era un mostro. No, all'epoca era bravo. Sì, sì, però mi ricordo quando lo beccai e dissi, cazzo, questo è proprio un mostro. E ci presentò, quindi facciamo sta roba a caso completamente. Quello era un matto. Io non capivo un cazzo neanche io. Però facciamo questo che c'aveva questo campione di Bob James bellissimo che l'altro giorno non mi ricordo a chi l'ho fatto risentire. Poi quest'altro erano dei bei pezzi. C'era Summer in the City. Sì, che non mi ricordo cos'era la campione. Poi c'è questo Dimensioni Mistiche. Forse era quella di P.C. Jones. P.C. Jones, forse era. P.C. Jones, forse era P.C. Jones. No, 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 no. Non era la sua. No, no, no. E poi Dimensionimi, questo invece era in Funkadelic, il campione me l'aveva dato Mauri, che è un pazzo selvaggio di Michelino che è l'essenza di come dovrebbe essere. Cioè di come è un rapper, no? Quello era il vero rapper, il vero MC era Mauri B. Straight from the heart. Anche Mauri B non sapeva cosa faceva, quello che faceva Mauri non sapeva. Prende il micro e faceva una bestia. Mi ricordo che mi sa che è stato quando ci eravamo già conosciuti tramite Bassi e tu sei venuto a Brescia quando avevi appena fatto questo disco e lì ci siamo conosciuti un po' meglio. Ti avevo portato in un negozio di dischi a fare un po' di digging a Brescia e mi avevi regalato questo disco qua. Quindi comunque Mixman Connection era un'autoproduzione completa che non aveva distribuito, c'era una cosa fatta… No, come tutto Roccia, come tutto, come tu sai bene e tu molto sai bene, però probabilmente chi ci vede non immagina, noi ci stampavamo tutti i dischetti. Quello che adesso un ventenne potrebbe fare, che ne so, risparmiando la paghetta, i centesimini e facendo due lavoretti e si produce un video, il corrispondente nostro era stamparsi un disco. più o meno, no? Sì, esatto. Proprio tutto fatto a mano, come si può vedere anche dalla grezzitudine… Sì, questa copertina c'era l'Appside e Subsist, mi ricordo. Ok. Tutto sgranato e pixelato, gli devo richiedere i soldi indietro. Ah, perché li pagate. Terzo disco, invece… Allora, con pochi posso sfoggiare un pezzo della mia collezione dei… Sì, ma Gundam, che tra l'altro ieri ero sul mio, diciamo, software di riferimento per contenuti video pirata, per così dire, cioè i film gratis. Certo, parliamone pure pubblicamente. Sì, come tutti, vado sul blog e mi vedo il filmetto e ho visto che… non è un blog, peraltro un'App che si chiama Popcorn Time, molto efficace, vedi tutti i film dell'universo streammati dai torrent a gratis e c'era una sezione anime a parte, vuol dire che sti anime sono di moda, però io guardavo e non ne conosco uno di cartone di robot di adesso. E' certo, sono cambiati i tempi. Sono cambiati i tempi, giusto? Questo Gundam però rimane… Ho scelto Gundam anche perché l'hai campionato tu nel tuo primo disco. Esatto. Molti non lo sanno, ma il pezzo con Didez, che mi ha ricordato Bosca, che era il pezzo con Didez, ha il campione di Gundam, che era una cosa strana. Cioè, io quando ho sentito il beat ho detto, cazzo, è geniale, no? Nel senso, io questi dischi ce li ho sempre avuti da bambino, ma non avrei mai pensato di campionare Gundam sul mio disco ufficiale. Beh, te avevi campionato Goldrake, Venusia. Venusia su Miracles. Ah, avevo campionato Venusia su Miracles. Quindi che cazzo, non avrei mai pensato… Guarda che l'hai fatto prima te, Venusia, dio Gundam. Sì, però nel senso, Gundam era una roba… il sintino di Gundam… e poi Cosio era un plagio, adesso non mi ricordo se di Bob James… cioè Venusia era un… quello che ho campionato io era un plagio di una roba… adesso mi sfugge di una roba jazz americana, comunque dopo l'avevo trovato, non ho il vinile, ma ho scoperto dopo che era un plagio, come tutte le robe fatte in quel periodo lì. si rifacevano alla disco, al funk americano, perché tutti questi erano musicisti che facevano le sigle di cartoni animati con due coglioni così, che venivano messi a suonare in studio e dicevano, fate la sigla di cartoni animati. E scopiazzavano la prima roba che avevano scritto. Scopiazzavano la roba che si ascoltavano, però tosta, no? Infatti per questo tipo anche capitanarlo così, c'è un bassista sopra che suona di giri di basso spettacolare da tutti i marchettari che andavano in studio e i dischi suonavano benissimo. Sì, di questo rubai il synth iniziale… bello, un bel synthino. Ecco me, sono Peter Ray… Sei stato il primo producer, facciamo un po' il punto della situazione con Bosca, che ha avuto un po', diciamo di larghe vedute, nel senso che sei stato il primo producer italiano a fare un disco compilation, un producer album, nessuno l'aveva fatto in Italia. C'era qualche esempio, perché per esempio anche mi ricordo DJ Z aveva fatto su Z, che era comunque una raccolta… però era tutto molto regionale. Era legato agli amici… C'era la rapa d'opa… La rapa d'opa, assolutamente, certo. Però era tutto il giro di DJ Graph e delle persone… Fritz the Cat ha detto ok, faccio un producer album, vado a beccare gente… Sei stato il primo a dire, per esempio, a prendere Turi e Compari, a prendere La Cricca dei Balordi, che comunque era un gruppo che apparteneva a una realtà ancora… cioè non lavoravano ancora con me, erano ancora una realtà molto provinciale. E quindi tu girando, beccando contatti e tutto, hai avuto l'abilità di mettere assieme veramente delle tessere di un mosaico e di fare un disco fatto e finito che è diventato un classico. Come hai fatto? Cioè cos'è che ti ha spinto a realizzare il disco in quel modo? Eh boh, come tante cose, come si dice, lo fai senza sapere che stai facendo, no? Però tornando a prima Bosca, la roba che dicevi… Non mi interessa questa, voglio rispettare… No, 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 è vero, no, perché è collegato, no? Perché tu mi dicevi, ma sei sempre stato un imbazzatore, che è poi un'espressione molto locale, no? Imbazzatore vuol dire uno, un PR, uno che si aggancia, aggancia, fai disfa… Però ecco, perché una delle cose che mi ha portato a fare quei due dischi che sono rimasti, per così dire, forse che è una roba che sinceramente sento di avere come qualità, è che in cuor mio è come se vedessi l'ordine delle priorità delle robe da fare, no? Quando ti dicevo sei un bravo manager, intendevo questo, tu hai proprio la visione di quello che deve essere il percorso, anche sull'album Frizzo, che ne parleremo dopo, ho riscontrato questa cosa, perché ho visto un po' il processo, ma ne parliamo dopo di questa cosa qua, comunque hai questa visione sequenziale. Sì, all'epoca questo, non capivo cos'è che ti ha portato a farlo così, boh, via via, dici, secondo me dovrei fare così, così, cos'è? Beh, insomma è stato un metodo esemplare, tu tra l'altro ai tempi producevi, dopo ci hai pure chiamato l'album 950, tu producevi, era molto basic il tuo setup, parliamone adesso di come producevi ai tempi, tu eri abbastanza, io mi ricordo tu, Gudi, tanta gente di quel periodo eravate molto integralisti sulla produzione, molto più di me o di gente che conoscevo, eravate i primi veramente, conoscevate bene tutti i break originali, i dischi classici da cui avevano campionato gli americani, quindi tu eri un po' in quel viaggio di fare le robe da purista. La menavate a quelli che non la facevano come voi. Più che purista, esatto. Tu eri un profanatore, assolutamente. Tu eri un profanatore, non è vero, tu avevi capito, avevi meno barriere mentali di quante ne avessimo noi e quelle rigidità che puoi avere a vent'anni o un po' di più, no? Assolutamente, noi eravamo convinti, mi ricordo con Esa se ne parlava spesso, che andasse fatto tutto con i break originali, quindi campionando il break facendolo suonare con l'MPC, con l'SP1002, con il 950 e dicevamo cazzo ma com'è che questi dischi americani suonano così? Non si capisce. Poi dopo vent'anni ho visto l'intervista di Ski Beats, ne abbiamo già parlato di questa cosa? No, com'era? Che ha prodotto Jay-Z. Jay-Z, Caplow. Ah ok. Come si chiama? Jay-Z. Dead Presidents. Dead Presidents, sì sì. E Ski Beats fa il making del beat sull'SP1002, come hai fatto? Ah sì sì, ho preso questo disco di Tribe Called Quest, ah c'era una bella batteria, l'ho campionata, ma come? Cioè ci crolla il castello addosso, quindi ai tempi quando ci lamentavamo di quando di quelli che prendevano i rullanti da DJ Premiere e tutto, in realtà era una pratica comunque comune in America, noi eravamo degli integralisti forse proprio all'Europea. Erano dei provincialotti, dei provincialotti con l'energia del ventenne che crede di sapere tutto lui. Bravo, hai dato proprio una definizione perfetta, non avrei saputo fare di meglio. E quindi tu comunque 950 e quindi facevi i tuoi beat, li mettevi su cassettina e li mandavi, li spedivi ai rapper, giusto? Sì. Per esempio ti ricordi qualche episodio legato a Fritz, scusa, a Fritz the Cat? No, questo mi ricordo, no, questo episodio è allucinante. Prova di spegnare qualche neurone. No, mi ricordo sta roba buffissima, che vai a far ridere adesso, all'epoca ci rimasi malissimo, te l'avevo raccontato. Non so. No, questo però era tra il primo e il secondo disco e conosco i Flaminio Mafia, ce li presenta la Pina che frequentavamo, all'epoca ci frequentavamo e la Pina dice Fritz devi dare dei beat a Flaminio Mafia. Ah sì? Va bene, allora prendo, vado in posta, scendo e spedisco perché ricordiamo appunto si spedivano i beat, eccetera. E praticamente mandai sta cassetta ai Flaminio Mafia, quelli ascoltarono la cassettina e praticamente mi chiamarono per dirmi che i beat non andavano bene, poi misero male giù il telefono e tipo commentavano beat a beat, gli facevano schifo tutti, uno per uno. E cosa dicevano? Tipo, mazza che merda questo. Ammazza su quei stecchetti. Però poi quelli erano i beat con cui poi facei 9,50 per cui tutto è bene quel che finisce. Ah ok. Non gli piacevano a loro, però no sì, c'era sta cosa singolare che anziché fare adesso che mandi un WeTransfer o come allegato della mail o allegato di Facebook mandi una base. O SoundCloud privato. O SoundCloud privato. All'epoca prendevi e andavi in posta, ti armavi una bella busta, Franco Bollo e mandavi la base sulla cassettina. Anche lì diciamo eccessi di gioventù, testa caldaggine, la presunzione di sapere sempre tutto, qual è il bene e qual è il male. Era un pezzo rivolto agli articolo 31. Ma perché? Cioè nel senso, chiaramente ai tempi eravamo tutti polemici, io stesso ero il capo dei polemici, però non c'era un reale motivo o c'era un motivo? No, di base io credo che non ci fosse un reale motivo, c'erano le teste calde in tutti, in tutte, in ambo le fazioni. Le fazioni all'epoca erano i cosiddetti commercialoni e i cosiddetti arcoroni, i cosiddetti arcoroni e i cosiddetti commerciali. Quelli commerciali, voi siete i cattivi, che fate musica solo per vendere, è come adesso. Sostanzialmente, articolo 31 e sottotono sostanzialmente. Articolo 31 e sottotono era la fazione dei cattivi venduti e poi c'era la fazione dei duri e puri che sanno tutti loro e tutto loro e io appartenevo a quella e quindi è successo questo. Da che mondo è mondo quando c'è bianco e nero, giallo e rollo, ci deve essere lo scontro. Allora c'era lo scontro tra le due fazioni che ci deve essere sempre, anche se è basato assolutamente sul nulla, perché sul nulla era basato. Questo pezzo creò un casino e non c'era ancora internet. Tu immaginati una roba così con internet cosa sarebbe stata. Comunque senza internet, con la sola diffusione delle copie vendute del passaparola, questo pezzo crea un casino. Cosa succede? Succede che dopo vari scontri e dopo che si è rasentato lo scontro fisico… La polizia si incazza. La polizia si incazza. Rasentato lo scontro fisico, si calmano le acque, insomma a me mi chiamano Esa, Lapina, DJ Grafici, bisogna togliere questo pezzo e fare un altro. E io all'epoca, che ero un giovane galoppino che eseguiva gli ordini di quelli più grandi con le gerarchie imposte da questo gioco dell'hip hop, obbidi in un caso e nell'altro e nell'altro. E quindi Grafici un pezzo? Rifacciamo questo pezzo, peraltro più bello, sacre per sempre. Però, infatti, vi voglio rivelare sta roba che ne parlavo proprio qualche sera fa con chi? Con DJ Grafici. Ah, ma come? Sì, ho parlato qualche sera fa, abbiamo passato un botto di tempo su Skype a dire, vabbè, no, insomma, comunque sia, no, adesso facciamo un'altra canzoncina. Proprio lui mi ha ricordato di questi due pezzi e ha detto, facciamo il terzo. Abbiamo fatto uno contro due. Non vogliamo crearci problemi. No, che problemi. Ma io mi ricordo… Ma gli articoli si erano mobilitati pesantemente per questa cosa. Cioè, io adesso ho… Non mi ricordo… C'erano state delle belle tensioni. C'erano state delle belle tensioni. Io mi ricordo che mi avevi detto che avevi addirittura delle minacce al tempo dai fan degli articolo 31. No… Che ti facevano un po' la posta sotto casa. Ti avrò detto una cazzata, Rocco. Sì? Perché io ci sono cascato di nuovo. Non lo so, però non mi ricordo. Perché ti facevano un po' la posta sotto casa. Però ti assicuro che ci sono state delle cose che si è rasentato il pericolo fisico e tutto e chi di dovere mobilitò le sue energie dal quartiere con tutte le ragioni del caso. Vabbè, comunque l'importante è sapere che a vent'anni di distanza… Siamo ancora vivi tutti. No, ma tutte queste realtà ci sono ancora, sono tutte in pace, più o meno in pace con se stesso e ognuno ha trovato la sua… Sì, questo dovrebbe servire… A me è servito di monito a regolarmi su sto fatto, che infatti quello che oggi ti sembra un nemico mortale che sembra poi uno stronzo, povero Cristo, umano, essere umano come te, che tu pensi che il tuo nemico mortale invece è una roba basata sul niente. Quindi dovrebbe servire adesso come parabola, però da che mondo è mondo l'essere umano non è che impara tanto da quello che c'è stato. No, certo. Per cui non mi aspetto, come dire, che i ventenni non abbiano quella carica di odio verso un nemico cosiddetto più o meno immaginario, no? È normale che quando sei giovane in qualche modo ti cerchi il tuo nemico. Pa, quello è lo stronzo che ci rovina la festa. Sì, questa cosa che abbiamo letto della skit ridicola che abbiamo fatto del promo del video di Tu che dormi, che è ironico chiaramente per chi non se ne fosse accorto, rispecchia realtà, cioè Fritz storicamente è uno che arriva in studio, iniziamo a lavorare e poi si trova. Io mi ricordo nella Fortezza quando sei venuto una volta a fare ancora Buzzley Click di cui parleremo dopo, c'era il punto di dire, ma dove è Fritz? Io avevo un tavolo con la console e sotto c'era una parte angusta sotto il tavolo e tu eri praticamente messo in mezzo alle gambe e il tavolo che dormi. Non è la prima volta, l'ho fatto anche in altri studio ora che ci fanno sotto le gambe. No, però sì, perché quella è una cosa strana, è vero che mi addormento tanto in studio, però perché sembro adesso che dico una... però praticamente lavoro duro in studio nel mio, a casa mia, no? Faccio la roba... Poi quando vado in studio a registrare il pezzo, tipo qua, anche qua così, mi viene il... non sto... non dovrei forse dirla... Ti rilasci? No, no, mi viene la paranoia a sentirci la voce del rapper sopra, mi sento un po' rovinato il mio... mi viene tutto... mi sento un mal di testa così e mi viene sto attacco di sonno e mi metto a dormire. Perfetto. E poi sento lì, mi ricordo infatti, mi ricordo Roccia che angoscia avevo quando stavano registrando Fabri Fibra e Bin, da te, che mi facevano schifo, io nel dormiveglia sentivo Bin che registrava e dicevo che cazzo è sto... Sì, con tutti c'è stata una buona interazione, poi anche il fatto di aver messo in pista sto disco, chiaramente questo meccanismo di un po' di competizione che c'è adesso tra i rapper c'era anche allora, per cui uno diceva cazzo faccio il disco, faccio un pezzo sul disco di Fritz, ma c'è anche Neffa allora mi sbatto. Quell'altro diceva la stessa cosa, no? Certo, ero molto romano. Quindi questo meccanismo virtuoso in qualche modo ha portato a far sì che... E poi vabbè come si dice sempre il luogo comune, il classico lo fa, sia chi l'ha fatto che chi l'ha ascoltato e quindi in qualche modo... Tipo il classico lo fate voi. Esatto, il classico lo fate voi. Quindi no, sì, chiaramente in qualche modo questa circostanza ha fatto sì che la gente ti ricorda. Ma un episodio particolare invece che ti ricordi proprio di 9.50 del disco, non so, una chicca, una roba, una roba magari che sul disco è uscita ma non volevi mettere, ti faceva schifo, oppure una roba che non t'aspettavi avesse un feedback di questo tipo. C'erano i liricos, c'era microspasmi, c'era comunque un botto di gente. Tormento, c'era se non fumassi. C'era Tormento se non fumassi che è un'altra hit. C'è qualche momento anche del making che ti ricordi? Ma per dire allora, il livello di integralismo e di follia dell'epoca, io me lo ricordo... Adesso a distanza di 15 anni si potrà raccontare sta roba. Praticamente arrivai a 9.50 uscì, le prime copie erano disponibili pochi giorni dopo la morte di Gio Cassano. Allora io mi ricordo erano le vacanze di Pasqua del 99, arrivai a Bologna per questo funerale e l'ho persi per qualche ora. Ero in Sud Italia. Quella domenica andai a Bologna per andare al funerale di Gio e l'ho persi di qualche ora. Allora andai a casa di Caos a portargli il disco. Caos era scioccato, stravolto da sto funerale che c'era stato. Iniziamo a litigare su cose preziose, perché lui... Ma te l'ho raccontata questa follia? No, no. Inizia praticamente a litigare perché lui sosteneva che io avevo usato il break di Walk This Way, che era la batteria. Walk This Way, ricordiamolo, è un classico degli Aerosmith, poi reinterpretato qualche anno dopo, anzi qualche anno dopo. Walk This Way del 75. Una decina di anni dopo, 13 anni dopo, i Run DMC la ripiecero, no? Con la batteria elettronica e gli Aerosmith che ci suonavano solo. Con gli Aerosmith che ci suonavano solo. Allora, campionare i Run DMC andava contro le sacre regole dell'hip hop, perché stai campionando... Per il discorso che facevamo prima. Per il discorso che facevamo prima. Allora, io avevo campionato gli Aerosmith, effettivamente, ma Caos lì per lì mi disse, questa batteria, comunque l'hai fatta la furbata, questa batteria suona troppo bene. Questa è la batteria dei Run DMC. E io gli disse, no, questa è la batteria degli Aerosmith. E lui mi disse, no, questa è la batteria dei Run DMC. Dopo 5-6 secondi di braccio di ferro che ci guardavamo negli occhi, lui, ma non sto scherzando, lui diede, in nervosi, diede un pugno al giradischi, si spaccò il giradischi e si spaccò la mano. E se ripetilo adesso, se hai coraggio... Io gli ho detto, sì, sono gli Aerosmith, sono i Run DMC, sono gli Aerosmith. Scoppiai a piangere, scoppiò a piangere pure lui e ci abbracciamo. Quindi tu fai tutte queste serie di percorsi e poi fai un'altra, secondo me... Pietra miliare. Un'altra cosa molto avanti, cioè fai un concept album con un super gruppo, che era una cosa che in Italia non si era mai vista. E io mi ricordo, tu mi presentasti questa cosa come... Ho scelto due o tre MC, tre o quattro MC con cui io voglio lavorare e ho messo assieme un progetto tipo... C'eravamo scelti noi, non ci eravamo trovati. Era un super gruppo e nasce Basley Click, che forse è stato il tuo più grande fallimento, nel senso a livello di vendite, di riscontro e di... cioè rispetto a quello che avevi fatto è stata comunque una delusione, hai investito molto a livello creativo su Basley Click. Diciamo che una volta fatto quello ho deciso poi di fare altro nella vita. Basley Click era... È stata una delusione, un fallimento, se no del poi non mi sento di dire... No, 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 nel senso... Adesso è comunque un classico, però è uscito in un periodo. Basley Click eri tu alle produzioni, con delle produzioni tra l'altro super originali, molto creative anche dal punto di vista del sampling. Io ho un ottimo ricordo musicale di... Sicuramente... Una mezza merdata. Vabbè, molto bene. Detto da Fritz the Cat, se pensate che fosse un classico... No, invece io ho un ricordo come una cosa assolutamente fuori dagli schemi... Cioè hai provato a fare delle cose che non hai ancora fatto e che comunque nessuno faceva in quel periodo. Tipo? Ma non so, mi ricordo delle produzioni veramente con dei campionamenti originali, con... Boh... Beh, hai preceduto anche Medlib sull'uso di alcuni campioni, eh? Capirai. Beh, vabbè. Beh, vabbè. Medlib. Dunque vabbè... Allora... Al microfono c'erano Fabri Fibra, Fede dei Lyricals, che poi è stata l'ultima cosa che ha fatto... Loro, Fabri Fede. Fabri Fede con gli interventi di Lugi e Turi. Lugi e qualcun altro, sì. E quindi insomma eravate voi tre i frontman del progetto, che tra l'altro vi ho avuto il piacere di registrare in studio da me. Sì, aveva registrato in studio da te. Che avevo appena aperto lo studio sui Navigli. Sì. La Fortezza. E cos'è successo? Cioè voi avete fatto questo disco, te lo sei autoprodotto, però nel periodo di completo buco e vuoto del rap italiano. Cioè non usciva niente, comunque i dischi non si vendevano, non c'era più l'interesse mediatico che c'era post articolo e sottotono. No, c'era la rivista di riferimento in quel periodo che stava chiudendo, no? L. Che era L che stava chiudendo pure. Quindi diciamo era tutto in discesa. Sì. Era tutto in discesa e infatti io avevo, quanti anni avevo? Era il 2001 e avevo compiuto da poco i miei 25 anni. O era il 2000? No, era il 2000 che c'era. Era il 2000? 2000, sì. Sì, era il 2000. Vasley Click è uscito nel 2000. Lo stavi facendo nel 99 ed è uscito nel 2000. Quindi Vasley Click esce nel 2000 e tu avevi… Sì. 25. Io avevo 25 anni e in seguito a quello, in qualche modo, in seguito a quello 25 anni andavo a letto praticamente tutti i giorni alle 7-8 di mattina perché stavo nel mio scantinato. dove tra l'altro adesso nella stessa via, vedi cosa incredibile, lì via Morazzone, via Giordano Bruno, i macete hanno aperto il loro studio adesso. Ah, è quella via? Sì. I macete hanno aperto la via esattamente dove… Sì perché alla gente ha l'indirizzo numero civico così vanno direttamente a romper… Vabbè, ma metti un coso, un censurino. Un censurino. Un censurino. Un cazzo. Cazzi vostri siete amici di Fritz. Ma sì, poi mica la zona Palosarpia, andate a fare il giro di zona Palosarpia, ci registrano tutti dai… No, no, c'è il best sound. Dato un indizio molto approssimativo. Il fatto sta che stavo chiuso lì tutti i giorni e, come posso dire, mi mantenevo grazie alla musica, però non vedevo… Non vedevo… Grandi sbocchi. Non vedevo un grande futuro in questa cosa e avevo voglia di fare altro, sinceramente. Quindi io dopo Buzzley Click, proprio poco dopo, ho preso e mi sono messo a fare il commerciante. Perché… Il fallito… Il fallito che vende le bombolette. Il fallito che vende le bombolette, esatto. Perché… Perché boh, ero saturato, non avevo più voglia di vedere la gente, non ci vedevo un futuro, non ci vedevo una roba… Però, Fritz, io non ho mai capito una cosa, tu sei stato appunto considerato un po' quello che ha mollato e tutto, però in realtà noi che ci siamo sempre in qualche modo frequentati, anche negli anni in cui non eri operativo a livello discografico… Sì. Tu, a parte che hai continuato comunque ad ascoltare musica, ad essere un fan anche e soprattutto dell'hip hop italiano, cioè è sempre stato uno con l'occhio ben puntato sulle uscite, poi hai avuto tante altre influenze, poi magari ne parliamo… però tutto quello che tu hai fatto era comunque legato al tuo mondo, al mondo dell'hip hop, cioè tu non ti sei messo a vendere salumi o a fare cibo biologico, a vendere vestiti giacca e cravatta, tu sei rimasto nell'ambiente dell'hip hop, hai fondato una società o comunque un brand che si chiama Full Clip, ispirato dal pezzo dei gangster e ti sei occupato di spray, quindi comunque sei stato molto legato al mondo del writing, quindi non mi sembra un… cioè un tradimento, semmai è un cambio di settore all'interno della tua passione… Mi sembra sbagliato a pensarci che in realtà avrei dovuto mettere in pista un business completamente diverso proprio da… perché in realtà, sì questo è un discorso che poi merita un approfondimento a parte, però ecco come soprattutto noi che arriviamo da quella generazione, quella forma mentis, abbiamo vissuto queste esperienze con un fare religioso, no? Cioè mi ricordo infatti la frase ricorrente era ma tu ci credi nell'hip hop, ma che devi crederci? L'hip hop lo vivi, no? Non è che ci devi credere, mica una religione, eppure c'era sta famoso ma tu ci credi veramente e lo fai per moda. Allora crederci appunto è come sai la fede, la fede è qualcosa o nella politica o nel calcio o nella religione… Crederci era farlo gratis sostanzialmente… Crederci era farlo gratis, se ci credi vuol dire che lo stai facendo gratis… Ci giochi ma con il rap non ci si gioca… Esatto, e quindi c'era un po' questa farsa qua del crederci, non crederci, come se crederci… Ma che cazzo devi credere? Credere è credere in te stesso e nel coso, una roba la vivi, no? E allora è rimasta la cosa come se poi smetti di farlo, tu hai tradito la tua fede… Ma io non ho tradito un cazzo, io quello l'ho fatto per un periodo, poi per un periodo ho fatto altro… E sono ben contento di aver fatto altro e come ti dicevo… Vedrei come un valore aggiunto avessi fatto altro, altro, altro… Cioè… mi spiego, io adesso credo che molti che fanno musica adesso… E hanno 25, 30, 30… Ma no… Quella… 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 Mica ne perde… Perché siamo esseri umani, siamo come delle spugne e nel momento in cui tu assorbi delle cose e poi le riprocessi… E le metti in frutto magari… Sì, questo è un valore, adesso non mi sto neanche tanto esprimendo perché sto facendo a sto lavoro un po' di liberazione davanti a voi psicanalitico e sto raccontando… Di non rincoglionirvi a fare musica e basta… Perché anche perché poi fai un disco e fai due, ne fai tre… Ma poi di che cazzo hai da fare… Insomma, mettete l'energia in qualche cosa altro… Tu l'hai spaccato comunque con le bombolette… Cioè alla fine ti sei inventato una roba tua… Hai iniziato come distributore, giusto? E ho iniziato distribuendo il marchio Montana, quella è spagnole… E poi sì, ho fatto il mio marchio… E che è diventato comunque un marchio di successo… È diventato… Sì, se devo farmi i complimenti da solo… Cazzo, Fritz, non è… È diventato un marchio di successo in tutto il mondo… Esatto, non è… Non è una roba… Cioè è come dire che noi fondiamo un'etichetta in Italia che si occupa di pop, stampiamo vinili e a un certo punto in tutto il mondo cominciano a comprare… Cioè non è una cosa da pop arrivare con l'Italia… Con una roba che non è la musica della discoteca e diventare famosa in tutto il mondo… O il cibo… O il cibo… Esatto, la moda… Sì sì… Ti do atto di questa grande intesa… Ma non ce l'hai quella Clashettina? Che adesso non ne esistono più… Sì, ho una… No… No, la Clashettina… La Clash era il mio marchio, Clash… E Beat, questo qua, che è un po' di Amarcord, mi sono messo la maglia mia dell'altro mio brand, questo qua, Beat. E… Sì, è stata una fortuna e una risorsa anche perché mi ha permesso di girare il mondo, no? Certo. Io le ho vendute… Insomma, per dieci anni… Avevo la mia distribuzione in Francia, in Germania, in Stati Uniti, in Brasile, in Russia, eccetera… Allora, insomma, anche visitare, passare del tempo in questi posti… Conoscere le realtà locali… Conoscere le realtà locali… Conoscere le realtà locali e anche le realtà musicali che spesso sono annesse a queste cose qua, a queste scene di graffiti… Non sempre… Ma spesso sono legate, annesse… E quindi sicuramente è stata una fonte di apertura… Di nuovo consiglio a chiunque faccia musica di lavoro… Di prendersi del tempo per fare anche altro… Tutt'altro… Sì, ma chiude… Perché questo non può costituire che un arricchimento… Questa è la mia idea… Nel frattempo, Fritz, tu ascolti ancora musica e non ascolti solo rap… Ascolti una cifra di robe che ti influenzano per poi le robe a venire… Sì, nel periodo in cui non ho fatto musica… Perché proprio non l'ho fatta… Che è andato dal 2001 al 2011… Sì, in effetti è proprio una decina di anni… Ho ascoltato parecchia roba da fruitore, da fan, da consumatore, da cliente… E soprattutto… Dischi di riferimento di questi dieci anni… Cioè, non so, il disco che puoi dire per esempio Daft Punk… O mi sono ascoltato delle robe che mi sono rimaste… No, no… No, mi sono ascoltato principalmente i dischi della decade prima… Anche perché non ne compravo tanti… Sentivo, spero chiaro… Scaricavo… Però mi sono… Mi sono sentito per… Cioè… Me ne accorgo perché proprio… E prima… Nel lettore CD… C'evo sto lettore CD in cui mi facevo le compilation nel 2000-2001… Così… Che poi coi primi lettori mp3… Mi ci mettevo i pezzi vecchi… I roots, mi ricordo… E poi… Nel 2005… 2004… Ormai 2005… 2006… 2007… Che mio fratello insieme a Mace… E… A ZZ… E un altro paio di ragazzi hanno messo in piedi questo collettivo… Reset… In cui hanno iniziato a produrre musica elettronica… E… Andando alle loro serate… Sentendo… Vedendo mio fratello… Trovando Mace… Così… E ho assorbito anche tanti input di cosiddetto calderone musica elettronica… C'è il nuovo… La nuova scuola… Questa qua… Del fare musica… In casa… Sempre… Col suonaggio… Col suonaggio… Esatto… Col suonaggio… E… E anche coi campioni… Però pure… Molto suonata… Eccetera… Con… Di fatto… Nuove tecniche… Nuove rispetto a come facevano le robe noi vent'anni fa… Ma tu ti ricordi il momento… Post… Questo periodo… Dove hai riniziato… Cioè la prima roba che hai fatto… Tu hai detto… Ok… Voglio fare un beat… Cos'hai fatto… Hai aperto il computer… Come hai fatto… Cioè… Che voglia ti è venuta di… Di ricominciare a fare… A fare… A fare produzioni… La parte che hai tornato… Se non sbaglio tu sei tornato… È entrato nel… Nel mercato con… Rivelazione… No… Come si chiama… Dichiarazione… 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 Giusto? Sì… Quello è stato il tuo pezzo di ritorno… Sì… Dopo magari un paio d'anni che eri comunque chiuso a rifare beat… No… Era proprio l'inizio… Ah ok… No… Era una delle prime robe che facevo con Logic… Perché… Sì… Forse un paio d'anni prima… Avevo Garage Band… E… Mi ricordo… Ah si faceva così… Ta ta ta… E assemblavo due robine… Però per scherzi… Infatti anche dichiarazione… C'ha un uso di synth… Del tutto improprio… Approssimativo… E di uno che si riaccosta… Alla musica… Dopo… Dopo tanto tempo… Una mezza porcheria anche quella… Sto impegnando… Sto colmando il gap… Ci vuole un po'… Beh… Comunque… E quindi il 950 l'hai buttato via… No… È rimasto… No… Il 950… Nel 2001 l'avevo regalato a un ragazzo vicino casa… Ok… Che gli ha detto… Fanne buon uso… Puttaneve… L'avrò messo su ebay… L'avrò messo su ebay… L'avrò messo su ebay… Firmato da Frizzi il Gatto… Il 950 di Frizzi Cat… Con cui ha prodotto le seguenti… Esatto… E quindi niente… Tu ti rimetti su logic… E scegli di produrre col laptop… E da qua… Un sacco di discussioni… E di… Di volte che ci siamo trovati a parlare… Di questa cosa… Tu hai cambiato… Hai stravolto completamente… La tua mentalità… Il tuo modo di produrre… Sì… Nel senso che da… Produco col vinile… Io non mi sono mai vergognato… Non ho mai avuto problemi a campionare dagli MP3… O campionare dai CD… Se ne avevo la necessità… Però… Tuttora mantengo un gusto… Innato… Del fatto di prendermi il vinile… Trovarmi il sample… Questo mi è sempre piaciuto… Tu… Dici… Oh… A me non me ne frega niente… Io apro il mio laptop… C'ho logic… Mi ripone un MP3… Taglio questo… Taglio questo… E poi fai… In verità adesso ho riportato i vinili su… Eh vabbè… In studio… Adesso devi deciderti… Non è che puoi sempre… Ma no… Infatti… Come posso dirti… Asfizio a vezzo… Devo riconoscere che il gesto mi piace… Il gesto così… Tanto solo per c'è lì la lucetta… La mia cannetta… Viene sul fuoco così… Prendo… Metto il dischetto… Però ecco… Senz'altro rispetto all'epoca che questa era la prassi sine qua no… Fai così… O non hai capito niente… Appunto con l'integralismo e il radicalismo… Che contraddistingue il ventenne… Che ha la verità in tasca… Adesso no… Assolutamente… Adesso… Il mio modus operandi è sempre legato al… Al campionamento… Nel senso che poi mi rendo conto che è quello… Quello che so fare no… Però… Se prima c'era questa pippa anale qua… Che ho campioni… Solo campione… Solo campione… Originale… Prima stampa… Con la puntina… Che erano queste pippe… Sai chi è che mi ha aperto la mente sul tema? Mace… Già nei primi 2000… Io avevo smesso di fare musica… Però con Hobby Mace… Che faceva musica tutta col computer… Utilizzando gli mp3… Sì… Lui utilizzava poi Fruity Loops… Forse aveva stato uno dei primi… Fruity Loops… Senza tabù… Sì… Perché appunto… Nell'ignoranza… Ingenuità… In coscienza del ventenne… Faccio così… Perché non so neanche perché faccio così… Lui faccia così di Fruity Loops… Con belle dosi di mp3… E quando gli dissi… No… Non è il pop… Perché il pop… Il borbottone che voleva spiegarla lunga… Lui mi aprì la mente con questa cosa… E mi disse… No ma guarda che… È molto più hip hop come faccio io… Perché… L'hip hop è nato… È nato… Fatto da… Da gente che utilizzava in casa quello che aveva… Un giradischi del cazzo… Il campionatore più economico… E i dischi di famiglia… Che era quello che vi dicevo ai tempi io tra l'altro… Eh scusa… A me non mi cagavate… Era troppo presto per capirlo… Era troppo immaturo io… Mi perdoni a distanza… No va bene… Scusi… Guarda Bosca che dice giustamente… No ce l'ho sempre letto io… Porca miseria… Però appunto noi avevamo questo integralismo che no… Si fa così o morte… In realtà… Come mi disse Mace… E prima Bosca che io non ascoltavo stoltamente… No poi l'hip hop era anti-integralista… L'hip hop era anti-integralista… No però Mace… Giuseppe mi fece riflettere su questa roba che… Utilizzavano i dischetti che avevano in casa… Certo assolutamente… Non erano dei bianchi… White ass… Borghesi… No no no… Europei pettinati che vanno e comprano 20 euro di disco… No certo… Il loro Claudio Baglioni era Otis Redding… Cioè nel senso avevano… Avevano un background musicale… Avevano Michael Jackson… O i Jackson 5… Perché i genitori… Quello era la roba più nazionale popolare negli anni settanta… E quello ci avevano… O meglio ancora… Le robe magari pop rock… Post Nashville… Così… C'erano i break di batteria… Le robe… Cioè non a caso poi scampionavano gli Aerosmith… Cioè… Questo è assolutamente… E quindi insomma… No… Quindi all'età veneranda di 39 anni… Io l'esperienza del campionamento me la vivo in un altro modo… Me la vivo che… Cammino per la città… Vedo un cartellone di Gundam… Allora mi viene in mente Gundam… E inizio a cercare le robe su Gundam… Poi per caso trovo… Il disco della colonna sonora… Di Gundam fatto da Takeshi Sukamoto… E allora mi cerco le cose di quell'artista giapponese… Che mi rimandano a quello… Che mi rimanda a quello… E nel frattempo ho trovato un miliardo di cose… Tu sei stato uno dei primi creativi… Su questa cosa… Ancora… Cioè hai stato primo su tantissime cose… Sei stato uno dei primi a seguire queste cose su internet… Quando ancora qualche anno fa internet… Non era così diffuso YouTube… Il fatto… Tu eri sempre attento… Tu venivi e mi facevi vedere questi video… Che… Non erano ancora virali… Come sono intesi oggi… Ma… Sei sempre stato molto stimolato… Dai video… I musicisti… Le cose che nascevano su internet… E questa cosa sicuramente ti ha aperto… Ti ha aperto la mente… Anche su come procedere… Per l'ultimo lavoro che hai fatto… Che appunto è l'album che è uscito due anni fa… No? Il 2013 è uscito Fritz… Cosa hai fatto? Hai preso mano all'agenda del telefono… Ma sostanzialmente hai chiamato i tuoi contatti… L'hai fatto nello stesso modo giusto? Nello stesso… Quello stesso apprassi… Dei primi dischi Fritz… Mmm… Sì… Beh l'hai fatto dopo un bel po' di produzioni su altri dischi però no? Nel frattempo… Qualche produzione… Dal 2011 al 2013… Ne hai fatto un po'… Beh niente di che… Qualche cosino… Qualche cosino… Sì… Sì… Come ho fatto Roccia? Ma no… Man mano che ho iniziato a riuscire a riandare a sti eventi… Ho abbandonato l'altro lavoro… Ho avuto più tempo… Ho beccato la gente… Ho detto… Questo… Sì… Potrebbe essere… Questo… Anche questo… Sai che adesso lì nell'ambiente delle bombolette dicono che Fritz è un fallito… Che è andato a fare… No è vero… Tu scherzi… Ah sì… No tu scherzi Roccia… Ma era una battuta… No… Non era una battuta… Tipo mio fratello l'altro giorno è andata a imbruttire ad Amsterdam… Ha un mio ex 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 collega che si chiama Hanks che vende gli spray… Che ha detto in giro che Fritz con gli spray non ce l'ha fatta… E quindi è tornato a fare la musica… Beh è sempre il mito del fallimento… Infatti io stavo dicendo… Non mi fai fare quel cazzo che voglio rifare… Che tanti hanno detto… Ah Fritz adesso torna perché adesso il rap va di moda… Torna… E ne approfitta… Beh quando tu in realtà… Beh però… Cioè… Stavi molto bene con… Avevi avuto molto successo con il lavoro che avevi fatto… Economicamente sì… Economicamente… Non avevi bisogno di tornare a fare radio… Però è normale… Agli occhi di chi non ti conosceva… Cioè per noi è facile dire che tu ci sei sempre stato… Perché io ti vedevo alle serate… Mi facevi sentire le cose… Ci siamo visti in dieci anni… Agli occhi anche credo di chi… Non solo non ha presente la mia storia… Ma agli occhi di chi non ha mai lavorato veramente con la musica… E quindi… E non sa quanti soldi si fanno… O meglio quanti soldi non si fanno con la musica… Quindi… Probabilmente… O… Se sei grandicello e non hai mai avuto risultati dalla musica… Quindi non sai che giro di soldi… O per l'appunto di non soldi c'è… Puoi insinuare quella malignità… Però ripeto… È una malignità che puoi insinuare… O se non hai mai lavorato con la musica… O sei sedici anni e quindi non hai mai lavorato con la musica… Se hai lavorato con la musica… Capisci ecco che… Che passare da fare l'imprenditore al musicista… È una cosa… Diciamo che sotto il profilo economico è completamente irrazionale… Non può che essere dettato da… Una vocazione… Certo… Una vocazione… Un amore… Una passione… Ma senti… Posso chiederti un'ultima cosa su internet… Sì… Tu sei un… Uno che promuove la… La diffusione e la… Cioè c'è questa… Delle cazzate… Delle stronzate… No… Tu sei uno che ha sempre detto… Non ne frega un cazzo… Secondo me… Cioè questa cosa è libera… Io scarico… Mi scarico i software… Mi scarico i dischi… Però arriva un momento… In cui tu devi… Alla pirateria vuoi dirmi… Sì… Beh tu sei stato sempre uno molto… Pirata… Che scarico… Sì… Ma l'hai fatto senza… Vergo… Cioè… Nel senso… Sei sempre stato molto chiaro… No… Però aspetta Roccia… Senza neanche una programmaticità che tu hai detto… Quella del copyleft… Senza rivendicare la giustizia di questo… L'ho fatto da Mariuolo… Ah ok… Come tutti… Non è che l'ho fatto da… Secondo me la musica deve essere libera… Vado sui blog e rubo i film come fan tutti… No… Ho capito… Però per dirti… Io che sostengo da sempre… Cioè io mi sono sempre scaricato da quando sono gli mp3… Gli album… Con l'idea che me lo ascoltavo… E nel momento in cui l'album mi piaceva me lo sono sempre comprato… Quando posso su vinile… Ma perché è una roba mia che voglio avere il fisico… Molta gente… Per esempio… Come te… Dice che… Cioè il bene materiale… Ormai non… Quindi… Nel senso a te non te ne frega niente di avere il cd fisico… Se ti piace un disco ti va bene ascoltarti la mp3… Ma… Questa cosa… Quando si arriva al momento di vendere i dischi… Poi tu prendi il tuo disco… Lo dai in distribuzione… Vai su iTunes… E poi vedi che comunque… Cioè il disco è in free download… E ci sono i blog dove ci sono gli zip… Share Beast… Il cazzo di Fritz… Dell'album di Fritz… Questa cosa ti toglie assolutamente dei soldi… Soprattutto nella musica dove non si guadagna giustamente… Si guadagna già poco… Così soprattutto con un disco che tra l'altro è uscito… Non è neanche indipendente… Quindi essendo uscito con una measure… Immagino ci siano… Tu hai delle percentuali… E… Quindi non vedi il pieno del tuo lavoro… Come ti poni nei confronti di questa cosa? Lasci passare o ti incazzi… Accetto la dura realtà… No… È come se… È come se io avessi un prodotto al supermercato… Però al supermercato non ci sono le casse… Tu puoi scegliere se passare così… Con i tuoi sacchetti… Senza mettere una lira… O puoi scegliere e passare e mettere un soldino… Non… Non so cosa dire… Quindi tu credi nel… È un problema… Non credo in niente… Io faccio musica… Non credo in un cazzo ormai più… Basta… Io faccio musica bro… Ho capito… Però alla fine uno stipendio devi portarlo a casa… No… A fine mese… Quindi c'è… Devono tornare i conti… Sì… In questa cosa… Molti si lamentano che… Giustamente fanno musica ma non hanno poi un riscontro… Anche per il fatto che magari uno si fa il video… Spende duemila euro per fare il video… Poi dove sono i ritorni di queste cose… Cioè… In data della visualizzazione arriva poco… I canali di streaming comunque corrispondono pochissimo agli artisti… I vari… Spotify così… Praticamente a meno che non sei Lady Gaga ti arriva… Ma manco… Ho sentito che… Spotify tipo… A Daft Punk per il record dei play di tutto… Insomma dell'album… Gli sono arrivate poche migliaia di euro… Sì… Nel senso… Sono piccole percentuali… Però comunque è un inizio di qualcosa che dovrebbe ufficializzarsi… Come fai a far tornare i conti? Come fai a far tornare i conti? Come faccio? Ripeto… Personalmente io Bax i conti li faccio tornare che non ho figli… Non ho famiglia… Ho lavorato per 12 anni duramente a un'altra cosa… Che per fortuna di Dio mi ha dato… Mi ha dato… Una base economica… Una base… Un po' di soldini eccetera… E adesso non arrivo… Non arrivo a fine mese col… Come si dice… Perché vivo con un cazzo poi… Cioè io non sono un big spender… Io non consumo un cazzo… Metto i soliti tre vestiti da barbone… Non ho l'automobile… Non ho la patente… Dischi vi scarichi da internet… Ma qualcuno lo compro anche… Adesso fatevi fare la parte del barbone figlio di trovo… No però per dire… Il… Non ho… Io spendo poco nella vita… E mi sono rotto il culo per 10 anni… Adesso posso permettermi di guadagnare poco dalla musica… Quale sia la soluzione a sto fatto qua… Che i produttori in generale… Non di rap… Non di musica… Ma di cultura… Quindi… Chi scrive i libri… Chi… Chi fai film… O fa… Insomma in generale prodotti culturali… Audio e video… Tutto quello che può essere digitalizzabile… Tutto quello che può essere digitalizzabile… E inculabile… Io non so qual è sia la soluzione a sta cosa qua… Io mi sono trovato la mia… Che è stata questa di fare altro per anni… Bax… No vabbè… Poi ognuno trova la sua… Era giusto per capire se… Se… Se avevi qualche idea a riguardo… Tu ti sei fatto un tour… Perché mi dicevi sempre… Io con questa cosa voglio andarci in giro… E ce l'hai fatta… Raccontaci… E con Ensi e noi… Ho fatto il mio primo stage dive… Ah… Hai fatto stage dive? Sì… Di vedere le foto… Ah bello… Ti hanno preso o ti hanno lasciato cadere? Mi hanno preso tutti… Maligno che non sei altro… Tutti facevano a gara per prendere… Solo fighe sotto… Solo fighe… Esatto… No no… Mi hanno preso… E' divertente… Non avevo mai fatto un tour… Girare no? Con gli amici… Momenti salienti… O qualche episodio divertente del tour… Momenti salienti… E salati… E pepati… In tour con Ensi… E Noiz Narcos… E Propaganda Records… Assolutamente… Beh… I momenti tranquilli… Erano pochi… Comunque… Noiz Narcos… In qualche modo… Soprattutto lui… E' una fottuta bestia di Satana… E quindi… Momenti salati… E salienti… E pepati… Vabbè… Parliamo dopo di Noise però… Perché adesso arriva il momento di Bosca con Favorite Things… Allora partiamo con Favorite Things che è questa rubrica che avremo in ogni episodio… Dove io chiedo a ogni ospite un tot delle sue Favorite Things… Quindi… Il suo preferito… Per ogni… Per ogni argomento… Per ogni oggetto che scelgo… E… Pronto? Pronto? Sei pronto? Sì… Risposta abbastanza secca… Se vuoi argomentare… Ovviamente… Sono libero di farlo… Sei libero di farlo… Quindi… Ovviamente… La domanda più scontata è… Il tuo produttore preferito… Mio produttore preferito… Pit Rock… Pit Rock… Sì… Secco così… Secco… Ad oggi… Tutt'ora… Tutt'ora… Diresti… Sì… Album o canzone… Album o canzone preferita… Canzone preferita… Proprio… Walk di Suoi… Dei Ragazzi… Dei Ragazzi… Ok… Sì… L'ho scoperto… Seconda media… Molto old school… Come risposta… Beh… Per forza… La musica che ti si attacca addosso… Leggevo sto articolo… Di neuroscienze… È studiata… Ben ricordo… La musica che ti si attacca addosso… È quella dell'adolescenza… L'imprinting musicale… Sì… È quella dell'adolescenza… Te quando hai 60 anni… Non capirai mai… Perché… I teenager… Ascoltano una musica diversa… Da quella che ascoltavi tu… È proprio un fatto neurologico… Tu è il regista preferito? Non sono un gran… Un gran intenditore di cinema… Eh… E… Un regista preferito… Poi che scegliano un film… Un film… Se vuoi… Non so dire se è il mio regista preferito… Però… Ho capito questi anni… Perché Tarantino è così grande… È magico… È perché… È un regista… Rap… È il suo palficion del 94… Che è anche il periodo caldo… Per il rap… E cose… Tutto… È… È un film rap… Come regista… Tarantino… È un regista rap… Perché… Perché… È unisce… Fa una roba nuova… Allora quella… Io posso dire che… Appartengo con la scuola anche io… Tarantino c'è una decina di anni più di noi… Però è quello che ha iniziato a fare il cinema… Campionando… Quindi questa… Come… Come noi facciamo musica… Per cui… Ti butto lì… Un breve di… Tarantino… Tarantino… Si… Libro preferito? Libro preferito… Libro preferito… Non lo so… Non legge… Adesso… No… Io… Leggevo come uno sesso da ragazzino… Eh… Come con la musica… Adesso leggo pochissimo… Adesso leggo saggi… Sì… Avrei detto Orwell… Io pensavo… Orwell… Sì… L'ho letto… Io ho letto… 1984… Bello… Però… No… Invece uno degli ultimi saggi che ho letto… Si chiama… Perché non possiamo non dirci evoluzionisti… E' molto bello… Di Dawkins… Richard Dawkins… Sì… Sì… Bravo… Bosca… Vedi? Se l'angolino lettura cultura… Se la roba tua… Il viaggio della vita… Tu che hai girato… Il viaggio della vita… Boh… I ricordi di quando ero bambino… Che ho iniziato proprio a viaggiare coi miei… Nel furgoncino Volkswagen… Tipo… Era… 79… 81… 79… 80… O 4… 5 anni… Era proprio all'asilo… E mi ricordo del Volkswagen coi miei… In Scozia… Con le torce attaccate… Che giocavamo a Ruba Mazzetto… Nel Volkswagenino… Così… Quello è un bel ricordo… Ricordo di famiglia… Bellissimo… Sì… Sport preferito? Eh… Sport preferito… Non ne guardo… Io di sport… Sinceramente… Non ho mai… Non ho mai visto… Non sono mai stato… Diciamo… Pratici… Pratico sì… Vado in palestra come uno sesso… Mi sono sempre dedicato a sport individuali… Un po'… Diciamo… Specularmente… Come nella musica… Ho sempre fatto musica… Più o meno… Per conto mio… Affiancandomi di volta in volta a realtà… Però… Non ho mai avuto il gruppetto… Alla stessa maniera… Non ho mai giocato in squadra… Ho sempre fatto sport individuali… Adesso mi sto ammazzando in palestra… Quindi bodybuilding… Come un tamarro… Ma bodybuilding è una parola fuori moda… Come noi… Però… No… In palestra… Mi alleno… Fai il pompaggio… Però sì… Poi da ragazzino… Ho fatto ginnastica artistica… Prima del suonaggio… Il pompaggio… Tra l'altro… Mi sono appena slogato la clavicola… Ma per quello ti chiedo… Perché vedo il cerotto io… Sono abbastanza tradizionale… Amatoriale… Non hai qualche fetti… Qualche roba… No amatoriale… A me piace vedere quelli amatoriali italiani… Sperando di beccare qualcuno che conosco… Sperando di beccare qualcuno che conosco… Sperando di beccare qualcuno che conosco… Sperando di beccare qualche video… Telefonino… La tua droga preferita? La mia droga preferita… Non vale dire la musica… Stavo dicendo anch'io… No, no, no… Proprio in tema di droghe, droghe, droghe… Io fumo… Fumo cannabinoidi… Principalmente marihuana… Sì, perché ho il sospetto che nel fumo… Ci siano ogni sorta di schifezze… Il fumo è una cosa in forma, tagliata, tritata… Per cui non mi fido… La marihuana… Fumo… Fumo molta più marihuana… E ne fumo troppa, sinceramente… Devo darmi una calmata… E incomincio a vederlo come un problema… Ok? Perché fumo tanto… Non fumavi quando ci sono conosciuti qua? No, io non fumavo fino a 20, 21, 22, 23… Ho iniziato a fumare a 25, 26 anni… Per colpa di mio fratellino minore… Che metti in piazza così i vizi di tuo fratello… Ma il mio fratello fuma… Ma fuman tutti… Sei te l'unico… Bax… Non è manco più considerabile un vizio… No, non è vero… È un vizio… È una droga… E bisogna… Se dovete fumare le canne… Fumatene… Moderatamente… Moderatamente… Sì, perché… Smoker responsibly… E poi non ti ricordi i dischi che hai fatto 20 anni prima? No, no… Mi ricordo… Mi ricordo tutto… No, non mi ricordo… Credo che infatti… Così si dice… Viene meno la memoria a breve termine… Infatti… Mi ricordo bene dei dischi che ho fatto 20 anni fa… Ma non… Di quelli che eventualmente ho fatto due… Ok… Giorni fa… Due… Giorni fa… Esatto… Bellissimo… Il… Il main course… Il piatto principale… È… Questo… Disco molto bello… Secondo me… Io sono contenti di come sta venendo… Che sto facendo assieme a Noise Narcos… È proprio un disco che… Prevista l'uscita per… Sta primavera adesso… Primavera… Quindi tra poco… Tra poco esce… E… Però… Io ecco… Su questo dischetto… Spenderei due parole… Che è interessante perché… Come cosa… Perché è una roba fuori moda… È difficile che adesso… Un rapper… Specialmente che ha raggiunto un certo status… Si concede… Di fare un disco solo con un produttore… Noi sappiamo in realtà che dal 94… Il disco di Nas ha inaugurato sta roba… E quando tu… Rapper… Solista… Fai un disco… Ti fa piacere avere… Più produttori… Più produttori… Più prospettive… Più… Più approcci… No? E invece… Noise e io… Abbiamo deciso di fare questa cosa… In qualche modo tematica… Perché anche sui miei beat… Spesso ci sono artisti diversi… Invece questa volta ci sarà solo lui… E lui avrà solo me come produttore… Senza featuring… C'è qualche feat… Però… È un disco nostro… Principalmente i pezzi… Sono fatti tutti da lui… Ed è figo… È figo… Perché… È un noise diverso… Da quello che si è sempre sentito… Ed è un fritz diverso… Da quello che… Beh… Siete un po' trovati… Ci siamo trovati… Ci siamo incontrati… E scontrati… Anche perché questa… Questa lavorazione… Richiede… Energia… È un po' di sacrificio… Da parti di entrambi… Allora stiocca spesso… Avrizzo… Fammi una bassa… Roccia… Ma dai… Ma perché non fai più così… E allora… Costretti un pochettino a forzarsi l'uno e l'altro… Venendosi incontro… Venendosi a scontro un pochino… Viene fuori quella cosa che non sarebbe… Sicuramente non avrebbe visto la luce… Con i modi di lavorazione… Moderni… Mi sento stupido a farla così… Però… Cercate… Cioè… Cercate… Se vi va… Se vi va… La volta che fate musica… Di beccarvi e non farla per mp3 inviati a… A cazzo sulla rete… Però trovatevi… In uno, due, tre, quattro… Quanti siete nel gruppo… Con il vostro produttore… Eccetera… Trovatevi e fate… Trovatevi e fatela la musica… Perché nel momento in cui la fate… Vedendovi… È ben diverso che io ti mando la base… Tu gli aggiungi la strofa… E poi quell'altro gli aggiungi l'altra strofa… Trovatevi per fare la musica… Perché… La musica va vissuta… Un po' collettivamente… Chiusi nella stanzetta… Fare musica… Mandarvi strofe negli altri… Ho l'impressione che nel migliore dei casi… Succede che poi viene fuori una bella canzone… Ma manco sapete come cazzo si canta dal vivo… Mi sembra un appello che chiude degnamente… La nostra prima puntata di Down With Bassi… Ringraziamo chiaramente Fritz The Cat… Per essere stato con noi… Fammi fare un po' l'ufficcioso… E vi ricordiamo che appunto… Ogni mese ci sarà in onda una nuova puntata… www.downwithbassi.com… Oppure il canale di Youtube… Down With Bassi… Se vi volete sentire le puntate intere audio… Ci sono su SoundCloud… Quindi sulla pagina dedicata… Oppure sempre sul sito… E quindi appuntamento al mese prossimo… Con un nuovo ospite interessantissimo… Intanto ringraziamo veramente Fritz… Per essere venuto… Grazie Bax… Peace… Grazie Fritz… E noi siamo fuori… Ciao…